attraverso la funzione associo attività potrò andare inserire le attività che ho creato nel mio calendario settimanale in questo caso andrò a selezionare il giorno di giovedì e inserire le attività precedentemente create con il più in alto a destra posso andare inserire per esempio l'attività preparare un panino con marmellata spuntando specifica orario posso andare a identificare l'orario di riferimento nel quale voglio che quell'attività venga fatta in questo caso andrò a inserire dalle ore 16 alle ore 16 e 15 scorrendo quindi l'orologio andrò a identificare il mio orario di riferimento nello specifico andiamo a cercare il numero 15 una volta trovato e identificato andremo a salvare tutto con il tasto di spunta in alto a destra posso spostare le mie categorie con un sistema di facile scorrimento in riferimento alle priorità nella mia giornata